Non dico soluzione, chiaramente, ma esami, terapia, terapia medica, terapia chirurgica, farmaceutica, come si può affrontare questo? Esami, diciamo, se noi abbiamo una donna con dei sintomi che ci fanno fortemente sospettare un'endometriosi, e non ha problemi di sterilità, possiamo anche evitare di fare una diagnostica come la laparoscopia. E prescrivere, per esempio, un contraccettivo orale, quindi ragazza giovane che non ha alterazioni ecograficamente dimostrabili, cioè un utero normale, delle ovaie normali, ha l'ecografia transvaginale, ha però una sintomatologia che si fa sospettare che ci possano essere delle isole di endometriosi sparse qua e là nella pelvi. Allora, a questa ragazza, al posto di proporre un intervento di laparoscopia per andare a vedere se c'è o non c'è l'endometriosi, e se in più ha anche bisogno di un contraccettivo, possiamo dare la pillola, che è uno dei migliori farmaci, diciamo, per l'endometriosi. Un farmaco che costa poco, protegge dalla gravidanza e in forme lievi di endometriosi ha comunque una sua efficacia. E l'argomento, in questi casi, si potrebbe concludere così. Diverso, ovviamente, sarà quando la ragazza sospenderà la pillola e vorrà una gravidanza. Se questa gravidanza arriva, problemi non ce ne sono, perché la gravidanza è terapeutica nei confronti dell'endometriosi, perché c'è molto progesterone. Progesterone cura l'endometriosi. Se invece avrà problemi di sterilità, allora lì seguiremo il percorso delle indagini per la sterilità. Abbiamo invece la donna che si presenta, che ha questi sintomi, o magari anche non gravissimi, ma presenta già un'immagine ecografica chiara di endometriosi. Allora, in questo caso è indicato un intervento chirurgico di laparoscopia, che non sarà solo diagnostico, ma sarà anche terapeutico. Noi oggi facciamo laparoscopie, in cui eseguiamo un intervento chirurgico. Non andiamo solo a guardare. Quindi prenderemo le nostre ovaie, staccheremo le aderenze, dreneremo gli endometriomi, toglieremo la capsula dell'endometrioma, rimetteremo a posto quella che cercheremo chirurgicamente di restaurare un'anatomia il più vicino alla norma. Coaguleremo, vuoi con il laser, vuoi con l'elettrochirurgia, tutti i focolai di endometriosi che si trovano all'interno della pelvi femminile. Cercheremo quindi di rifare un'anatomia normale. Il problema più complesso è quando invece l'endometriosi interessa degli organi che sono extragenitali. Può interessare soprattutto l'intestino, in particolare il retto sigma, e può determinare una stenosi. Quindi il transito fecale è alterato, si possono avere presenza di sangue all'emissione delle feci, e soprattutto i problemi legati al restringimento del lume possono richiedere un intervento chirurgico che inevitabilmente è quello di una resezione intestinale. Lo stesso vale per quando l'interessamento vescicale è importante. A volte l'endometriosi interessa a pieno spessore la parete vescicale e quindi è necessario fare una resezione parziale della vescica. In altri casi ancora l'endometriosi tende subdolamente a restringere gli ureteri. Questo è un problema estremamente grave perché se il procedimento, il processo è lento, la paziente può non manifestare i sintomi acuti dell'ostruzione ureterale. Può quindi arrivare a distanza di tempo ad un rene escluso che viene poi diagnosticato quando ormai non è possibile più porre rimedio. Quindi è una malattia che ha un costo sociale estremamente elevato e anche un costo umano che è difficile a volte da riconoscere e da diagnosticare tempestivamente e inoltre comporta anche problemi tecnici chirurgici nelle forme avanzate estremamente complesse. Sono interventi che possono avere più facilmente delle complicanze e sono interventi che spesso possono non risolvere completamente il problema e queste donne possono andare poi incontro a delle recidive. Oggi abbiamo tutta una serie di farmaci che ci aiutano nel trattamento sia prechirurgico che postchirurgico di queste pazienti oltre alla pillola e ai classici progestinici che sono un po' i cardini della terapia medica dell'endometriosi abbiamo gli analoghi del GNRH che hanno anche una elevata efficacia sull'endometriosi e abbiamo poi tutta una nuova serie di farmaci che l'industria ha prodotto che da poco sono entrati in commercio che hanno purtroppo dei costi ancora un pochino elevati e che quindi non sempre possono essere utilizzati da tutte le pazienti però diciamo abbiamo un armamentario farmacologico oggi piuttosto vasto ed anche piuttosto efficace. Ricordo poi infine che nelle donne che hanno una gravissima endometriosi che hanno già fatto degli interventi e che arrivano a un'età quando ormai il desiderio riproduttivo è concluso può essere anche valutata la possibilità dell'asportazione quindi dell'apparato genitale e quindi in particolare delle gonadi, delle ovaie perché come sapete la cessazione della funzionalità ovarica porta in automatico a una remissione della malattia infatti la donna in menopausa va incontro alla risoluzione di questo tipo di problematica. Dottor Crescini grazie per questo suo interessante approfondimento e per essere stato nostro ospite arrivederci da Medline TV. Grazie.